Il Movimento 5 Stelle non consegnerà le chiavi dell'Italia alla Troica. Il Movimento 5 Stelle si oppone al MES. Fate attenzione, tutti dobbiamo capire perché il MES è pericoloso per l'Italia. Il Meccanismo Europeo di Stabilità, detto anche Fondo Salva Stati, è un trattato intergovernativo, approvato dai vecchi partiti e sostenuto da Napolitano, che ha il potere di imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi che lo richiedono. Il Fondo Salvagente è stato creato a causa delle troppe crisi bancarie. Se una banca crolla, si può attingere al MES. Ammonta a 700 miliardi e ogni paese membro ha diritto a una parte di questo. Se il governo italiano richiede l'intervento del MES, dice addio per sempre alla libertà di decidere il futuro economico del nostro paese. Il MES è uno strozzino, non un salvatore. Vi ricordate cosa è successo alla Grecia di Tsipras? Chiedere soldi al Fondo Salva Stati significa essere governati dalla Troica. Sapete cosa accadrà se Gentiloni chiederà soldi al MES per salvare Monte dei Paschi di Siena e tutto il sistema bancario italiano? Per prima cosa, nessun futuro governo eletto avrà libertà di scelta. Poi non esisterà più la possibilità di avere un reddito di cittadinanza. E infine ci sarà il blocco della nostra economia, schiava dei trattati europei. Richiedere il MES significa venderci alla Troica. Non facciamo del male all'Italia. Ha 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 Grazie a tutti